Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo tornati con un nuovo video di Blockwing Go In compagnia di Dario De Mamini Dopo me lo scrivi su Whatsapp ok? Ok Mi hai invitato? Io ti ho invitato nel timo Aspetta 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 Ok Sparta Aspetta la mattina Ma quanto è bella questa murina Siamo in backwards Io sono bello comunque Ah ma ti hai messo due per me No Ah no che ne hai sbagliato Tu non mi hai sbagliato Ciao Ciao Con le solite Ok Bu Ok Ok E poi quanto sono bello Io non sono molto allenata quindi non ho No 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 Ma dove sta il ferro? Oddio Oddio Un po' Un po' Ok 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 Un po' Un po' Farma oro Farma oro Farma oro Farma oro Così prendiamo il legno Che è più forte Legno Aspetta Metto Dentro la testa Il ferro Il ferro E poi mi metto a fermare tanto oro E poi non è oro È silver Cioè la spada è di silver E di silver Mentre Mentre Il materiale E Il diario Non ho capito di più Ciao Ciao Sto raccogliendo Io so che mi hanno un sacco di pezzo Per compagni la nuova matura Dobbiamo fare gli aggiornamenti Aspetta Ora mi prendo altri Ok Io posso prendermi già il nuovo boccamento Allora C'è bisogno Di prendere Cosa Eh Diamanti Perché Dobbiamo potenziare le cose Ok Io prendo quello che serve Tu prendi un po' di roba Serve oro Che bello Quanto Quello ha i blocchi Ho preso C'è i blocchi di tutto Io ora mi prendo il piccone Il piccone di oro Il piccone di oro Il piccone di oro Mi sono preso il piccone Il piccone Il piccone E beh il piccolo va bene Quanti pezzi d'oro c'hai? Di oro? Sì Allora con l'oro Sai cosa mi compro? Mi compro il legno Sì sì Eh Ehm Più Lascia Il piccone di oro Servono diamanti Servono diamanti Ok Ok Mentre io mi vado a fermare tutto il pelo che ho Me lo fermo per prendere i blocchi di muro Perché mi dà che sono buonissimi questi blocchi di muro Cioè c'è buono tanti Paticamente se noi abbiamo fatto 24 di fermo e ci prendiamo una torre Sì Intera Ok 24 di fermo Ok Sì E ci prendi una torre intera Io ce ne ho 5 Allora vedi qua la mele te ne lo hai Ce ne ho 2 così per fare 7 E da 7 poi io te ti faccio poi 24 Ok Ok Vedi che ci sono tutte Però ti consegno io Vai a prendere Vai a prendere Vai lì qua Vai a prendere Vedi tutto Vedi tutto Vedi tutto Andiamo a prendere il diamante che ci siamo Eh vai lì a prendere bravo Ok Io ne prendo questo diamante Tu ferma tutto Ma dove Quanti ne servivano per la torretta? Per la torre 24 Io ce ne ho 40 E' qui Oppa Ci hanno lanciato il gas Ci hanno lanciato il gas Ci sta C'è Sicuramente Ci hanno lanciato la 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 aiutami ha buttato le cose sta qua sopra ha buttato dei raggi attento sto morendo dalle flamme mi ha colpito se volo in posto dove sta? aiuto ho riviso dove? vai su questo blocco no sono morto ma io non lo vedo eccolo ma sono morto anch'io ok io lì c'ho spiegato ok ok io prendo tanto ferro aspettate io un attimo ci sono andato a crepire ma non ce l'ho scettato di tutto non ce l'ho scettato di tutto non ce l'ho scettato quello che è è morto il giallo ho fatto morire il giallo c'è un botto di roba si però non hai fatto un botto di tutto il letto no no hai perso un po' non aveva il gioco e se hai perso male la doveva veramente lui aveva più facilità che andare al letto io mi prendo tanto noi ci vediamo nel prossimo video ciao turuturututti ciao 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 ciao